Simona ci senti? Io ci sono, voi mi sentite? Mi sentite? Allora stacco il microfono, se no ci rivelbero e lascio spazio a Simona, se ci sono domande sul tuo intervento, alla fine, ok? Ok, allora, buongiorno a tutti, io sto attivando anche velocemente la webcam per così vedervi virtualmente e incontrarvi virtualmente, poi staccherò la webcam perché ruba, diciamo, banda preziosa al nostro collegamento. Innanzitutto, buongiorno a tutti, io sono il referente pedagogico e twinning per la Toscana, sono una docente di scuola secondaria di secondo grado, insegno lingua straniera, insegno l'inglese. Prima di tutto, io naturalmente già ve l'hanno anticipato, io mi trovo qui a distanza, ma per via dei problemi di cui abbiamo già parlato, ma ci tengo particolarmente ad avere un contatto con tutta la platea che so essere molto numerosa e che ringrazio, per cui vi chiedo la cortesia, la gentilezza di interrompermi in qualsiasi momento, di chiedermi, di bloccarmi. Io ho sentito tutto quello che è stato detto in sala, quindi il contatto funziona molto bene. Prima di iniziare vorrei naturalmente ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato a realizzare questo evento, la scuola del Preside Gestri, la collega Paola Minucci, con i quali abbiamo ormai, come è stato detto dal Preside, già un rapporto di tanti anni e quindi anche veramente un rapporto di stima sicuramente ormai provato e di collaborazione. Ringrazio naturalmente il Preside Giorni che è lì con voi, che oltre ad essere Preside del Pier Cironi di Prato è uno dei più valenti ambasciatori, anche sicuramente uno degli ambasciatori più anziani, sicuramente non per età ma per esperienza. e lo ringrazio in modo particolare perché la doppia veste di dirigente e di ambasciatore è una veste di particolare rilievo perché se la scuola deve o può diventare una scuola e twinning sicuramente dipende dai docenti che lavorano insieme al Preside o alla Preside. Ringrazio poi naturalmente anche la Professoressa Cecchi, con la quale fino a ieri abbiamo lavorato fino a ieri pomeriggio e con la quale ci sentiamo quasi tutti i giorni, quindi grazie davvero Daniela per il lavoro che fai per l'internazionalizzazione delle scuole. E naturalmente i colleghi che questo pomeriggio faranno i workshop, brevemente mi sofferno sui workshop poi mi levo dall'audio e dal video, scusate, non dall'audio e dunque i workshop che questo pomeriggio vi faranno i nostri colleghi sono molto differenti l'uno dall'altro e tutti e tre molto interessanti perché partendo dal primo che è The Other Story, da un progetto twinning a un convegno internazionale, vuole raccontare un'esperienza molto molto efficace, quando si parla di twinning non si parla di finanziamenti europei, al contrario dei progetti Erasmus che come sapete vengono dai progetti Comenius, quindi insomma sono progetti finanziati che hanno come vantaggio il finanziamento importante, ma che chiaramente hanno come rovescio un'importante azione proprio dal punto di vista finanziario di rendicontazione, per quanto semplificata comunque richiedono i progetti Erasmus delle competenze e delle collaborazioni con gli esperti amministrativi e certamente questo non è il nostro ruolo, non è il nostro ruolo di docenti, anche se quando poi si lavora nella scuola ormai sempre più noi docenti dobbiamo cercare se facciamo progettazione di comprendere il meccanismo dell'amministrazione, è utile direi, molto utile riuscire a capire come funziona, guardare le cose dalle due prospettive. Paolo ha creato, è riuscito a creare invece Paolo Zanieri, il collega di Colle Valdelsa, è riuscito a creare da un progetto Twinning un evento internazionale finanziato e è riuscito a trovare dei supporti, un supporto finanziario per cui è riuscito a organizzare nella propria scuola un gruppo di docenti che sono arrivati da molte scuole di tutta Europa, questo perché vi abbiamo inserito questo workshop per farvi proprio vedere come Twinning possa essere uno strumento per creare rete, aggregazione e quindi formazione, è stato un progetto di formazione, lui vi spiegherà ovviamente sia che coinvolgeva sia docenti che studenti, è stata una situazione bellissima, siamo state invitate da Daniela Cecchi e Dio nella giornata conclusiva ed è stato veramente magnifico, quindi Paolo vi racconterà come questa cosa è stata possibile e naturalmente può essere applicata ad ogni situazione, disciplina, tipo di scuola, ordine, grado, quindi è uno spunto, un po' come i Twinning è un contenitore per tutte, per le più diverse discipline. Il secondo workshop sarà guidato da Simone, Simone Bionda, il professor Bionda che è un docente di lingua straniera e si avvarrà della preziosa collaborazione della professoressa Cannito che è una docente che lavora al Pier Cironi di Prato e insieme lavoreranno sul CLIL e quindi daranno molte indicazioni pratiche, strumenti, dritte, strategie per lavorare in CLIL e Twinning. L'ultimo workshop è il workshop di Laura, Laura Maffei che lavorerà sulla progettazione in modo molto pratico, Laura Maffei insieme a Simone, insieme a Paolo è un'ambasciatrice, insieme a Alessandro, sono quattro ambasciatori, ciascuno nel proprio ruolo e questo workshop in particolare avrà un taglio molto pratico e creativo, quindi abbiamo cercato il più possibile di lavorare in più direzioni e seguendo più canali. Allora io adesso partirei con la mia presentazione chiedendovi veramente la cortesia di interrompermi e chiedermi, mi levo dal, diciamo sparisco dall'audio, scusate dal video, di nuovo dall'audio, sparisco dal video e fermo la, blocco se ci riesco la webcam, non so che cosa stia facendo, ok, ora dovreste sentirmi solamente. Allora io ho voluto intitolare questa presentazione per non cadere nella rete, ora mi sentite meglio? Sì, bene. Ok, perfetto, scusa Ale, il tuo messaggio l'ho visto soltanto ora, scusatemi, mi diceva Alessandro che saltava il video e l'audio, spero che si sia capito abbastanza bene quello che ho detto. Ora è a posto. Ok, perfetto, allora partirei proprio da dove si è fermata Daniela Cecchi, cioè dai seminari online e dal titolo della mia presentazione. Io credo tantissimo nella formazione sul digitale, credo che non sia un caso, poi che alcuni di noi si siano incontrati, molti di noi in realtà si siano incontrati con i twinning lungo il proprio percorso, perché i twinning interpreta direi al 100% questo, diciamo il desiderio di utilizzare il digitale nella didattica quotidiana. I workshop online sono un momento di confronto estremamente efficace e mi associo a ciò che vi ha detto Daniela, perché il webinar è sicuramente una modalità molto più ravvicinata di contatto e certamente la formazione in presenza ha delle altre componenti fondamentali di confronto, ma il webinar è un sistema che funziona molto bene, che noi useremo sempre più in futuro e che vi invitiamo, anche io vi invito a frequentare, perché tra l'altro è un incredibile e semplicissimo modo per autoformarsi e l'utilizzo di alcuni strumenti. Chiudo sui webinar dicendo che per accedere ai webinar e twinning naturalmente è necessaria l'iscrizione, quindi apro proprio la mia presentazione invitandovi a chi ancora non lo fosse ad iscrivervi via di twinning. E twinning è una piattaforma internazionale, nasce da una decisione, un'azione europea della Commissione europea, quindi ha un'impronta decisamente europea, oserei dire anche extraeuropea, nel senso che e-twinning è una comunità di docenti che è estesa a docenti non solo insegnanti di scuole dell'Unione, appartenenti all'Unione europea, ma anche a zone limitrofe, ai cosiddetti paesi amici, quindi dei paesi delle nazioni che hanno dei trattati di collaborazione con l'Unione europea, ad esempio l'Armedia, ad esempio la Tunisia esiste una parte di e-twinning che si chiama e-twinning plus, che consente di una sorta di estensione di e-twinning che consente di progettare assieme a paesi vicini all'Unione europea. E questo è un esempio molto importante, ma il discorso della condivisione, della convivenza e dell'inclusione è un discorso assai importante, nel quotidiano lo viviamo, con e-twinning abbiamo la possibilità di lavorare con paesi con realtà diverse dalla nostra, quelle europee, già molto diverse dalla nostra, ma abbiamo la possibilità di lavorare anche con paesi e culture e persone ancora più diverse e questo potrebbe essere un'incredibile opportunità anche per il futuro. I numeri di e-twinning io ve li ho messi qui, sono questi numeri tratti dal portale e-twinning, sono dei numeri interessanti, naturalmente questo è a livello complessivo, non a livello italiano, e-twinning è sempre più alto il numero di docenti e di scuole che si avvicinano ad e-twinning. E-twinning è una piattaforma che funziona adesso, dopo vari aggiustamenti, adesso e-twinning funziona né più né meno che è una piattaforma social che noi siamo abituati ad usare tutti i giorni, quindi e-twinning.net che è la piattaforma europea sulla quale noi docenti e-twinner lavoriamo, progettiamo e condividiamo il nostro lavoro con i nostri docenti partner, dicevo è una piattaforma né più né meno nell'aspetto grafico simile a Facebook per esempio, l'enorme differenza che c'è, non l'unica sicuramente, ma l'enorme differenza che c'è, sì certamente si può utilizzare come social network, si può utilizzare come sito web, si può creare un progetto ed avere uno spazio, si può avere uno spazio di blog, si può avere uno spazio dove caricare materiali e condividere esperienze, uno degli aspetti che dal mio punto di vista sono rilevanti e molto importanti è quello della sicurezza, sicurezza per noi, sicurezza per gli studenti, è una piattaforma a cui possono accedere ovviamente docenti che lavorano insieme e a cui senza altro sicuramente possono accedere gli studenti che lavorano con noi, perché noi lavoriamo con gli studenti, quindi diciamo la piattaforma coinvolge sia noi che loro sul lavoro di progetto e però al momento in cui noi siamo sulla piattaforma Twinning abbiamo la certezza di essere in un ambiente condiviso con altri docenti e altri studenti verificati, quindi non esiste il problema, il rischio molto forte dell'identità fasulla, delle persone che si dichiarano ciò che non sono e quindi con delle componenti di rischio elevatissime, sicuramente in sala ci saranno docenti di scuole di diverso tipo, quindi immagino che ci saranno delle colleghe e dei colleghi, potrebbero esserci colleghe e colleghi della scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado, non esiste a mio modo di vedere una differenza quando si parla di sicurezza, certamente se noi abbiamo a che fare con bambini molto piccoli, la sicurezza diventa un fattore evidente, perché sono minorenni, non solo in alcuni casi sono proprio piccolissimi, quindi dobbiamo proteggerli da ciò che vedono, da ciò che sentono, dalle aggressioni di ogni tipo. Certamente diciamo che questa prudenza che noi adottiamo in internet sarebbe opportuno che venisse adottata anche in altri canali e media, ma questa è una mia polemica personale che chiudo, perché l'importante è che noi riusciamo a fare il meglio possibile, il massimo per proteggere loro, ma d'altra parte dicevo la stessa cosa succede per gli adulti, noi abbiamo a che fare con magari delle classi di quinta, superiore, sono maggiorenni, non importa, il problema è lo stesso, il problema è assolutamente lo stesso, non esiste una differenza fra proteggere un bambino di 4 anni e un ragazzo di 16 anni, veramente su questo io sono assolutamente, ho una visione molto molto forte di questa cosa e quindi mi sento quando sono in e-twinning mi sento protetta. Funziona in modo molto semplice, la piattaforma ci si iscrive, si fa un'iscrizione che dura, non mi sono mai cronometrata, non mi sono cronometrata quando l'ho fatto anni fa, ma penso 5 minuti fra confermare l'email che ci manda i twinning ed essere in piattaforma, caricare un'immagine che ci rappresenti, se non vogliamo mettere un'immagine del nostro viso e iniziare a lavorare. Iniziare a lavorare in un modo molto semplice e cioè cercando di capire in che modo il twinning possa esserci utile. Io credo che questo sia importante e possa esserci utile ovviamente dal punto di vista didattico, io credo che il punto fondamentale di partenza per tutti noi che lavoriamo in e-twinning o per chi lavorerà in e-twinning e spero verrà incuriosito da questo nostro seminario e vorrà lavorare in e-twinning, è che il twinning è una modalità, è un contenitore, non è un, diciamo, non ci vincola a un obbligo o a limiti di lingua, di livello di conoscenza della lingua, di disciplina che noi insegniamo, di età degli studenti che noi abbiamo di fronte, di tempo e spazio che vogliamo dedicare. In estrema sintesi che significa? Significa che il e-twinning è una piattaforma che mi offre la possibilità di lavorare in team e questo è anche un aspetto molto importante direi, no? Io credo che non solo noi adulti e quindi sicuramente noi adulti, ma anche i ragazzi che noi abbiamo davanti si troveranno sempre più, se già non ci si trovano, ma pensando in prospettiva a una dimensione professionale o anche accademica, che dir si voglia, quindi a qualsiasi sia il percorso che loro seguiranno nel futuro, avranno a che fare sempre più con una dimensione di squadra, di team, non è pensabile, basti pensare alla rete, no? Alla rete, non solo la rete internet, ma proprio l'idea del lavorare insieme, non è più possibile immaginarsi di lavorare da soli e quindi l'addestrare, fra virgolette, scusatemi il verbo un po' da così, da 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 diciamo non adeguato addestrare legato al concetto ai nostri ragazzi, ma all'abituare, al formare i nostri ragazzi a lavorare in squadra, realmente questo sia un fatto fondamentale, quindi lavoriamo in team, scegliamo di lavorare con un partner che per noi possa essere interessante dal punto di vista del nostro progetto, quindi possiamo partire sia da un'idea, quindi abbiamo un'idea, abbiamo un obiettivo, vogliamo lavorare, per esempio mi viene in mente un argomento che è un classico, soprattutto quando si tratta di progetti con bambini più piccoli, cioè parlare del cibo, dal cibo possono venire fuori dei confronti straordinari dal punto di vista culturale in senso ampio, può essere banale, sì sicuramente l'idea può risultare, ci si può immaginare che si possa diventare, si possa essere banali, ma secondo me l'idea tanto più è semplice, cioè quanto più è semplice tanto più si riesce a realizzare utilizzando le più sottili sfumature in modo veramente molto molto interessante. Dicevo appunto, si può partire da un'idea, quindi io, Simona Bernabèi, voglio lavorare con i miei ragazzi sul cibo, però questa cosa mi piacerebbe vederla da vari punti di vista e The Twinny mi consente di aprirli, di offrirli questi punti di vista, di aprire delle prospettive diverse, particolari, da cui a cascata possono uscire tantissime prospettive diverse, tantissime riflessioni diverse, scusate, non prospettive, offriamo prospettive diverse e da questo nascono riflessioni diverse che fanno crescere i nostri studenti. Quindi trovo un partner, posso trovare più di un partner, lo posso trovare, abbiamo detto dell'Unione Europea o dei paesi vicini, lo posso trovare anche italiano, perché magari mi interessa lavorare con dei colleghi di altre regioni, dipende tutto da quello che io ho in mente. È chiaro che conoscendo lo strumento è più facile far combaciare ciò che ho in mente io con ciò che i Twinny può fare, è ovvio, noi ce l'abbiamo bene in mente e quindi a un certo punto se mi viene un'idea dico top top, questa cosa la posso fare con i Twinny, perché conosco lo strumento. Ma anche per chi non conoscesse lo strumento, il suggerimento è quello di allora tentare magari un'altra strada. Se sono un po', diciamo così, mi trattiene un po' l'idea di mettermi in qualcosa di nuovo, io sulla piattaforma posso seguire altre strade, posso seguire la strada del kit, quindi posso trovare un insieme di materiali già verificato da altri docenti, i kit li trovate sulla piattaforma, sono in varie lingue e su varie discipline, interdisciplinari anche, quindi insomma potete trovare materiali di molti tipi, di diverso tipo e sono dei progetti in realtà che sono già stati sperimentati da colleghi docenti prima di noi e i quali molto spesso, anzi direi quasi sempre hanno ricevuto anche dei riconoscimenti da parte della comunità i Twinny italiana e europea, quindi i progetti i Twinny possono ricevere certificati di qualità a livello italiano e a livello europeo e a questo sono legate anche delle interessanti possibilità di formazione, di incontri, di conferenze a cui si può venire invitati come docente che ha avuto il quality label, il certificato di qualità sia a livello italiano che a livello internazionale. La più recente conferenza europea e Twinny si è svolta a Malta e sono stati invitati i docenti che avevano vinto il quality label europeo. I progetti possono essere anche appunto con docenti italiani, dicevo, questo è importante perché i Twinny può essere uno strumento che viene utilizzato per fare rete. Daniela Cecchi prima citava un progetto, noi ne abbiamo fatti due negli scorsi anni, sono stati dei progetti CLIL per la scuola secondaria di secondo grado che come sapete in particolare il liceo linguistico vede il CLIL obbligatorio a partire dal terzo anno e gli istituti tecnici dal quinto anno e gli altri licei dal quinto anno, abbiamo creato due reti di scuole e due reti di docenti che hanno su due progetti diversi lavorato sul CLIL in e-twinning e quindi questo è anche una destinazione interessante di e-twinning, si può lavorare in modo assolutamente gratuito, chiaramente non è richiesta nessun contributo né per partecipare ai nostri eventi di formazione online, offline, quindi dal vivo, né ovviamente per lavorare nei-twinning. Dicevamo dei kit e poi dicevamo ci sono dei progetti che sono già esistenti, chiaramente, quindi navighiamo i-twinning, cerchiamo dei progetti che già esistono, cerchiamoli selezionando dei criteri, quindi vogliamo filtrare i progetti, selezionare dei progetti sulla base di una disciplina, sulla base di una fascia d'età, possiamo farlo e quindi trovare il progetto che ci interessa, che già è attivo, trovare chi è molto semplicemente perché basta entrare nel progetto e vedere chi è uno dei docenti che hanno fondato il progetto e metterci in contatto e dire guarda mi piacerebbe, parliamone, mi piacerebbe lavorare con voi, ho una classe così così di 20 alunni, 30 alunni, non lo so. Andiamo sul fatto dei 30 alunni, 20 alunni e del tempo. Io credo che l'aspetto fondamentale sia quello di capire esattamente, come dicevo, quale sia il nostro obiettivo e quindi in fase di progettazione del nostro lavoro annuale definire in che modo i-twinning ci possa dare una mano e questo ve l'ho già accennato. Il tempo che serve per fare i-twinning è un tempo che decidiamo noi, sicuramente è un tempo che possiamo utilizzare al meglio approfittando delle nostre ore di lezione, se abbiamo in classe dei requisiti tecnici minimi, perché per fare training basta, come vedete io sono a Grosseto, voi siete a Prato e abbiamo, credo insomma riusciamo ad avere un'interazione che spero poi insomma con delle domande sia davvero da tutti e due i lati, però insomma mi sembra che non ci siano problemi. Superiamo le barriere dello sciopero e dell'impossibilità di muoverci per la Toscana. La stessa cosa succede a livello molto più vasto, con distanze molto più ampie e il tempo che possiamo dedicare è il tempo che noi decidiamo di dedicare. Io se voglio muovermi in e-twinning e voglio per esempio appunto fare uno scambio di auguri di Natale, faccio per dire, per muovermi, per cercare di fare una piccola cosa e capire se mi piace, lo posso fare e decido di metterlo nella mia programmazione per lavorare per esempio sui saluti, per lavorare per esempio sul cosa vedi dalla tua finestra? Mi ricordo un'idea della Barbara Furiesi di Certaldo, una nostra ambasciatrice. Io dalla finestra vedo al momento un palazzo grigio, ma magari il mio amico di Malta vede il sole, il mio amico di Stoccolma vede la neve e il mio amico di Parigi vede la pioggia e da lì veramente si può lavorare su un'infinità di temi. Salendo di età e-twinning serve in modo eccezionale per la, sia i docenti direi, penso per esempio alle esperienze CLIL, sia i docenti che non siano docenti di lingua straniera, perché non è che tutti quelli che fanno i training siano docenti di lingua straniera, anzi, le cose più belle spesso vengono proprio da docenti di lingua straniera, perché o comunque si parlava di team dal lavoro che si fa in team su discipline specifiche, ci sono dei progetti di fisica, di matematica, di storia dell'arte, di materie letterarie e insomma la lista è notevolmente più lunga. Per fare i training serve un minimo di conoscere una lingua straniera che sia veicolare se si collabora con colleghi stranieri, ma come dicevo questa, l'abitudine a lavorare nei training può essere uno strumento eccezionale anche per motivarci e rimetterci in gioco se per esempio siamo dei docenti CLIL e o vorremmo essere dei docenti CLIL e quindi ci dobbiamo confrontare con la lingua straniera, non serve di essere, anche se la normativa ce lo richiede, però per i training non serve di essere docenti C1, certificati C1 in lingua straniera assolutamente, anzi questo può essere uno stimolo per rimetterci in gioco. Io ho lasciato le domande in fondo, dicevo anche perché so che vorrei cedere la parola al preside giorni puntuale come ci eravamo detti, però vorrei darvi un esempio di tema. che a me avrete capito è particolarmente caro, forse spero anche chiaro, ma insomma sicuramente molto caro, ed è la cittadinanza digitale. Si parlava prima di piano nazionale scuola digitale, un animatore in ogni scuola, un team digitale, un gruppo di docenti che sono stati in formazione, non entro nel merito né dell'animatore digitale né di nulla di tutto ciò, però la cosa che mi interessa dire è che sicuramente la scuola italiana si sta cominciando a muovere in questo senso, cioè si sta rendendo conto che pensare che si possa entrare in classe e dire ok benissimo, spegniamo tutti i telefonini e mettiamoli dentro una scatola e sono sequestrati fino a quando io non esco e non ho finito di fare la mia bella spiegazione o la mia bella interrogazione o il mio bel compito in classe. a parte il fatto che condivido con voi i miei dubbi circa questa procedura, proprio anche da un punto di vista di quello che norma la legge, ma io credo che continuando a lavorare in questo senso, cioè vietando e proibendo e non cercando di partire da quando i ragazzi hanno due anni, tre anni, quattro anni sulla cultura digitale, credo che non si arriverà lontano e bisognerebbe anche lavorare sulle famiglie, per questo che poi è utile, interessante, fondamentale in questi progetti coinvolgere, nei progetti Twin, in coinvolgere chi ci è intorno, quindi fuori dalla classe, via, fuori dalla classe, condividere con i nostri colleghi, perché è bello condividere, poi insomma non è che dobbiamo stare da soli lì nella nostra classe e lavorare a casa al buio alle 10 di sera, lavoriamo, al buio intendendo insomma con la lucina, lavoriamo e condividiamo e per questo, proprio perché noi se ci sentiamo di fare queste cose, siamo dei docenti motivati e siamo dei docenti che hanno voglia di mettersi in gioco e se voi siete qui penso che questa sia l'idea, è bello che anche nella nostra progettazione Twinning sia nel POF, nel PTOF e certamente non il nostro progetto singolo, ma il nostro progetto, la nostra azione, quindi i Twinning nel PTOF, il Preside Giorni parlerà di questo, parlerà di Twinning come azione di sistema, quindi io non voglio dire cose che lui molto più con competenza di me potrà raccontarvi fra un attimo, però ritorniamo alla cittadinanza digitale. Diciamo che il punto chiave secondo me è anche un po' ragionare con chi noi abbiamo a che fare, questa slide che vi metto, questa signora che su Twitter si chiama Hub Mom, è una mamma che lavora moltissimo, una grande esperta di social media ed è una persona che collabora anche con i Twinning, quindi che dice una cosa secondo me molto, cioè che fa un passo avanti rispetto alla famosa idea del nativo digitale, che sarebbe diciamo la generazione dei, già forse non più, perché lei ci dice dal 97 in poi questi ragazzi sono social native, quindi sono nativi sociali, io non credo affatto che i nostri ragazzi siano dei nativi digitali, credo che siano degli immersi digitali, cioè credo che siano dei bambini che si trovano, poi ragazzi che si sono trovati con un tablet sotto le dita per necessità anche familiari condivisibilissime e quindi si siano trovati a utilizzare uno strumento senza poi capirne l'obiettivo. E questo è un po' il problema, un po' il problema anche di quei colleghi che mi dicono tu che sei di informatica, faresti qua, io non so di informatica, io non sono un tecnico informatico, rispetto al lavoro del tecnico informatico e non mi metterei mai a fare delle cose che non so fare, ma è questo proprio il senso, diciamo mescolare i due ambiti, l'informatica con la cultura digitale. Questi ragazzi sono decisamente dei ragazzi che nascono con Twitter, Facebook e tutti gli strumenti social e quindi noi con loro da questo punto di vista dobbiamo iniziare il nostro ragionamento, dobbiamo capire, sicuramente per noi è complesso, abbiamo un'altra età, abbiamo un'altra testa, un'altra cultura, ma il nostro ruolo è fondamentalmente quello di guidarli attraverso questo cambiamento, questa realtà e per noi è fondamentale un cambiamento di visione forte per molti di noi. non è facile, non tutti lo vogliono fare e io rispetto tutti, quelli che abbiano una visione differente dalla mia, però con questo dobbiamo decisamente fare i conti, abbiamo bisogno di capire che noi lavoriamo con dei ragazzi che dovranno essere cittadini del domani, ma nella maggior parte dei casi, anzi direi in tutti i casi, nel domani la cittadinanza, il concetto di cittadinanza coinciderà con il concetto di cittadinanza digitale, cioè saranno delle persone che non solo faranno quelle famose professioni nuove di cui sentiamo spesso parlare da studiosi di chiarissima fama, ma lo useranno per qualsiasi cosa, per apprendere, per comunicare, per partecipare, per partecipare alla vita quotidiana di tutti i giorni, per essere cittadini. E quindi in questo diciamo che la piattaforma Twinning ci aiuta, perché Twinning in qualche modo, se voi guardate questi 4 punti, questi 4 punti che sono l'alfabetizzazione, la sicurezza online, la partecipazione e il comportamento, sono dei punti che sono raccontati e descritti dal DigComp, che è un documento europeo importantissimo che descrive le competenze digitali dei cittadini europei, recente perché ha avuto varie revisioni, quindi chi fosse interessato lo trova sui siti europei, credo forse anche tradotto in italiano, ma sicuramente in inglese, in francese, in tedesco, spagnolo. Dunque, questi 4 punti sono le 4 diciamo aree principali di DigComp, quindi l'alfabetizzazione digitale, non informatica, che è diverso, capire come funzionano questi strumenti, quali sono le modalità di comunicazione che vengono utilizzate, lavorare sui Twinning ci consente di imparare noi e di insegnare ai nostri ragazzi come si usano questi strumenti, la sicurezza online, certamente possiamo anche fare un progetto sulla sicurezza online, ma già dal momento in cui noi capiamo che i nostri ragazzi capiscono che noi siamo in un ambiente sicuro, protetto dall'esterno, protetto da attacchi di qualsiasi tipo, da invadenze, da minacce di qualsiasi tipo, già noi, diciamo, questo messaggio riusciamo a passarlo, poi possiamo approfondirlo, ma sicuramente già l'idea è chiara. Parliamo di partecipazione, perché sicuramente il progetto è, il progetto Twinning è qualcosa a cui si lavora attivamente noi con altri colleghi, noi con i nostri studenti, gli studenti fra di loro, quindi partecipazione è un progetto comune, con tutto quello che comporta, inclusione dei più deboli, inclusione degli studenti con lingue diverse, intelligenze multiple, quindi ognuno che impara col proprio passo e il proprio ritmo e appunto lavorare a gruppi, lavorare insieme, produrre qualcosa di comune, creare poi un prodotto, quindi qualcosa che resta, qualcosa che ci piace, no? Sia a noi docenti che ai ragazzi, abbiamo fatto questo, no? E poi naturalmente, il comportamento, come ci si comporta in rete, perché io mi devo rendere conto che non posso scrivere e pubblicare delle cose su Facebook, anche per i più piccoli che in teoria non dovrebbero avere accesso a Facebook, ma che poi anche già dalla prima liceo hanno il loro account Facebook regolarmente, che cosa mi deve far capire? Perché io non devo scrivere che quel ragazzo, perché non devo deridere o non devo insultare o devo avere un mio comportamento online? Perché io non devo postare le foto di me sbronza, ci tengo a dire che io non mi sbronzo, però insomma per ipotesi, me sbronza che ho un comportamento… Non ci crediamo, non ci crediamo, non ci crediamo, ma infatti fate bene, perché io non devo pubblicare delle foto di me sbronza che mi rotolo sul pavimento in una festa di 15 anni o 16 anni, perché innanzitutto io non posso bere, ma questa è un'altra questione di cui non dobbiamo occuparci, ma io 15 anni intendo, ma chiaramente questa è un'impronta della nostra vita online che rimarrà per sempre, è inutile che io vi ricordi, ormai lo sappiamo tutti, che un domani, che ormai insomma diciamo i colloqui di lavoro avvengono quasi tutti online, forse i colloqui definitivi avvengono in presenza, ma i colloqui avvengono tutti online, è che la prima cosa che il datore di lavoro farà probabilmente sarà verificare l'impronta che ho lasciato online di me, quindi cercherà Simona Bernabèi che sono lì a fare un colloquio forse prima, ancora prima che io sia a livello di colloquio, perché se trova me che mi butto su, mi rotolo sui pavimenti, mi escluderà a priori e troverà di me quello che io ho lasciato negli anni e quindi insomma questa è anche una cosa da dire, da spiegare e da capire. E tutto questo è possibile con i twinning, perché noi abbiamo, dobbiamo attraverso i progetti twinning lavorare, ci riusciamo perfettamente a lavorare su questa competenza che è quella della cittadinanza digitale. Vi lascio qui, adesso qui non si vede del tutto, vi lascio qui dei documenti di riferimento che vi dicevo, il primo è un rapporto OXE, ormai del 15, noi siamo nel 17, a fine 17, ma è molto importante anche semplicemente leggere le introduzioni, i summary di questi documenti per incorporarli nel nostro lavoro, cioè farli nostri. Poi appunto Digicomp che vi nominavo, Growing Digital Citizens che è una pubblicazione di twinning che trovate insieme ad altre pubblicazioni, tra cui l'ultima sull'inclusione, molto bella, sul portale, twinning.net. E poi vi ho messo delle attività di riferimento, sono in realtà dei handbook, sono Web We Want, che è un handbook per ragazzi, per adolescenti, professori e genitori, e la Better Internet for Kids che è un'iniziativa europea molto importante per intenderci quella che organizza Safer Internet Day tutti gli anni a marzo, e poi appunto Safer Internet Day. Io per ora avrei finito, sono fuori di 5-6 minuti, però non so se vogliamo a questo punto far intervenire il Preside Giorni, decidete voi, io sono qui e faccio quello che mi dite. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e sono qui, vi ascolto, quindi qualsiasi cosa ci sono. Simona? Sì, ci sono. Simona, mi senti? Ecco, sì sì, benissimo. Sì, sai che io ho un impedimento, devo andare via? Direi se le domande lasciamo a dopo, ok? Assolutamente sì. Sei d'accordo? Allora, ti tolgo dall'audio, comincio io l'intervento, ok? Intanto sentirai quello che mi collego. Allora, ti tolgo dall'audio. E mettere qui. non me l'ha mai chiesta questa cosa ok ci siamo pronto? mi sentite? si ora vado senza microfono o con microfono? microfono perfetto allora io ho l'incarico di condividere con voi quello che è quindi come azione di sistema prima di cominciare a farvi vedere qualche slide e parlare un po' con voi in modo abbastanza libero rifaccio i ringraziamenti perché non è mai scontato dovevo essere Toscana, dovevo essere Sacecchi e Simone Bernabei che sono i referenti di Twinning che hanno chiesto e io vorrei dire risposto di partecipare a questo evento non è la prima volta che partecipo a eventi Twinning il taglio del mio intervento perché mi avesse visto in altre occasioni è cambiato in quanto ormai siamo in una fase nuova abbiamo scoperto da pochissimo che al prossimo giro i dirigenti non saranno più a maschiatore Twinning ma saranno testimonial che è un'altra cosa sarà sicuramente interessante scopriremo cosa fare ed è anche giusto così perché alla fine le mani in pasta le mettono gli insegnanti tante cose ormai da dirigente non le faccio più però l'argomento che ci siamo condivisi e che poi ho preparato è Twinning come azione di sistema allora come ha detto Simone circa un'oretta fa io sono un vecchio ambasciatore perché ho le mani in pasta nel Twinning dal 2005 come ambasciatore svolgo questo oro dal 2008 senza soluzioni di contribuità quindi ho visto un po' tante cose e quando poi ho cominciato a lavorare come dirigente scolastico ovviamente mi sono trovato in una scuola che è quella dove attualmente lavoro e la slide 1 era il 2012 rappresenta un po' le facce degli insegnanti che mi conoscevano e anche i miei punti di diritto relativi perché ho incontrato una scuola che pur avendo tantissimi punti di forza allora come ora sui Twinning sui progetti come Enio su Erasmus diciamo che era un po' terra terra guardo la professoressa Cannito che è qui presente ci siamo confrontati quindi non sto raccontando cose che ho percepito non se ne parlava era un argomento che era fuori dal collegio docenti e quindi il primo passo è stato introdurre l'argomento dei progetti europei al collegio docenti questa è stata la mia reazione interiore quando ho scoperto che io avevo sette anni di esperienza e quindi in quella scuola che avevo scelto non aveva niente di tutto ciò però non mi sono perso d'animo e tecnicamente ho cominciato a parlare della possibilità dei progetti europei per chi li pratica da tanto tempo perché magari vivere in una scuola da tanto e da già in prodotti o per chi li fa di per sé può sembrare scontato ma in una realtà dove di un argomento non se ne parla perché si fa altro che comunque ha un valore ovviamente ci vuole anche un attimo di delicatezza non è che le cose cambiano in un secondo e quindi abbiamo iniziato a lavorare con il collegio docenti, ho cominciato in varie occasioni a parlare del potenziale ho lasciato che i consigli di classe, i team docenti della scuola primaria si confrontassero sull'argomento e nel frattempo siccome che vogliamo o che non vogliamo internet ci torna addosso hanno cominciato già a metà del primo anno di scuola a consentarmi dei genitori che avevano scoperto googleando che io ero ambasciatore di building, io non l'avevo detto ai genitori perché non avevo avuto il tempo di incontrarli sono venuti a bussare al mio ufficio dicendo ma lei che è anche ambasciatore perché non porta più inglese alla scuola primaria, perché non porta più inglese qua e quindi ho cominciato a ascoltare e poi anche a recepire un'esigenza dell'utenza che poi è il motivo fondamentale per cui noi esistiamo perché senza alunni, senza genitori chiudiamo con te, dobbiamo essere onesti qui ho usato la parola tecnica stakeholder, giusto per fare un po' il figo ma in realtà erano tutti i genitori ovviamente queste cose erano una parola molto americana quindi giusto per lasciare un po' sempre e quindi parlando parlando il collegio docente si è mosso e sono iniziate le prime iscrizioni sporadiche di un paio di insegnanti al portale quindi.net senza forzare la mano a nessuno, senza dire va fatto ma semplicemente perché anche mentre si prendeva un caffè al bar insieme uscendo da un consiglio di classe la cosa stava maturando la breccia quindi si è aperta a un certo punto e abbiamo intanto nel vecchio POF, senza la T abbiamo introdotto i progetti e quindi come concetto perché all'epoca, ve lo ricorderete, il POF si rinnovava di anno in anno e quindi ovviamente l'anno dopo io ho detto ok, introduciamo almeno il concetto che era né più né meno quello che avevo attuato come insegnante di una scuola dove avevo lavorato in precedenza prima ne avevo parlato e poi con l'appoggio del mio all'epoca di dirigente scolastico nel POF introducemmo la possibilità a progetti di training non mi soffermo su questo dettaglio per dire che ho fatto una cosa brava ma per dire che se non sta la parola training nel POF allora o nel POF training adesso è molto più difficile anche ottenere un tipo di supporto dal collegio docenti, dal dirigente, dalla segreteria che a volte deve anche sborsare dei soldi per fare della formazione, mandarli fuori cioè quello che sta nel POF in realtà è attuativo perché il POF deve poi trovare attuazione con il programma annuale che vuol dire soldi mi conto è fare il progetto di training per sé perché ci piace, perché ci fa bene perché piace ai nostri alunni, che è tutto sacrosanto all'inizio anch'io ho fatto così ma il passaggio delicato e fondamentale di inserire nel POF la voce il progetto di training, il progetto Erasmus come poi vedremo tra poco è essenziale perché si apre poi la porta del bilancio della scuola ovviamente se c'è un po' di insegnanti che ci crede e se non c'è una dirigenza che apre le strade quindi è un doppio lavoro che va fatto quindi ci siamo mossi in questo senso consapevole ovviamente che i cambiamenti non arrivano come si dice a passo forzato ho continuato a far lavorare gli insegnanti abbiamo anche formalizzato i dipartimenti che prima del mio arrivo alla Cigioni erano non formalizzati quindi sono andati quattro grandi dipartimenti per aree di materia alla scuola media alla scuola primaria ovviamente già si lavorava un certo tipo di discorso i dipartimenti hanno maturato ulteriormente la consapevolezza dei progetti training e intanto continuavano ad aumentare le iscrizioni degli insegnanti non in modo esponenziale lo dico subito non vi immaginate che su 90 insegnanti ci siano 89 iscritti a training non è questo che sto dicendo ma sicuramente ripeto da uno zero a un più per cento la differenza si nota un po' come quando un alunno impara una lingua straniera da zero tutti voi avete questo tipo di esperienza suppongo arrivare a livello a uno è un grandissimo successo poi arrivare alla due ce ne vuole perché si fa molta più fatica sono tornato grazie 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 grazie